E voilà, i Better Days iniziano così, su questo campo. Ha preso il via a Pesaro con l'inaugurazione del Campo Soria in biaccio, riqualificato a beneficio della comunità, la seconda edizione del Kellogg's Better Days, l'iniziativa promossa dalla società Chellanova, che punta a promuovere uno stile di vita sano e una società più inclusiva. L'iniziativa, che lo scorso anno ha coinvolto Milano e Reggio Emilia, raggiungerà nel 2024 5 città in giro per l'Italia, oltre a Pesaro, Roma, Torino, Brindisi e di nuovo Milano. In ogni tappa l'azienda riqualificherà un campo da basket e organizzerà attività sportive e di sensibilizzazione alla corretta alimentazione. Al focus è Better Days, creare giorni migliori. Gli obiettivi sono promuovere un benessere delle persone, quindi con uno stile vita sano che è sinonimo di integrazione di attività fisica con una sana alimentazione. L'altro obiettivo è essere sempre più vicini alle comunità locali, in questo caso alla città di Pesaro. Ultimo, ma non ultimo in termini di importanza, è quello di promuovere una società sempre più inclusiva che parta proprio dallo sport e superi ogni diversità sia di genere che di abilità. Stiamo ulteriormente sviluppando l'iniziativa che già ha avuto grande successo lo scorso anno. Abbiamo più che raddoppiato il numero di campi, quest'anno saranno cinque. Iniziamo con Pesaro, poi andremo a Brindisi, a Torino, a Roma, per poi finire a Milano. E anche da un punto di vista degli ambassador, dei nostri testimonian, quest'anno saranno tre. Oltre a Bellinelli, che non ha bisogno di presentazioni, è una stella dell'NBA, ha militato per più di dieci anni l'NBA, ha vinto anche il titolo. Quest'anno saremo affiancati anche da Giorgia Sottana e da Giulio Maria Papi. Con Kellogg's Better Days che la nuova rafforza il proprio legame con il territorio, restituendo alla cittadinanza un'area rigenerata dove praticare sport e divertirsi ogni giorno. Per me essere qui e partecipare a questa iniziativa Kellogg's Better Days è un motivo di estremo orgoglio perché oltre a riqualificare un campetto bellissimo, va anche a toccare dei punti che per me come atleta sono importanti, quale lo stile di vita sano, quindi la nutrizione, e poi l'inclusività a partire dalle donne, che ovviamente mi vede coinvolta in primo piano. Le leve per uno stile di vita sano? Per me che sono atleta la prima cosa sicuramente è la nutrizione, a partire dalla mattina da una colazione sana e nutriente. Si parlerà di diversity e inclusion, che è un tema molto vicino a me, che cerco sempre di poter far capire quanto il basket in carrozzina può essere uno sport inclusivo e quindi questo connubio ha creato una sinergia perfetta per essere oggi qua. Anche quest'anno l'azienda è partner ufficiale della National Basketball Association. Grazie alla promozione NBA sulle confezioni di cereali e snack a base di cereali Kellogg's, i consumatori avranno l'opportunità di vincere premi legati al mondo NBA, incluso un viaggio per assistere a una partita dell'NBA negli Stati Uniti.